Ma perché i ventenni fanno ancora le band? Suonano? Imparano a suonare uno strumento, vanno in sala prove, poi scrivono dei pezzi? A me non sembra. Mi sembra più che i ventenni si chiudono in cameretta con il computer, le cuffie. Quando nella migliore delle ipotesi, quando non scaricano delle basi strumentali su cui rappano, cercano di scrivere delle rime che fanno anche abbastanza cagare. A Cagliari non ce ne sono. A Cagliari in questo momento c'è pochissima roba interessante e se c'è non si palesa. Anzi sono sicuro che ci sia qualcosa di interessante, ma non si sta palesando fra i ventenni. C'è qualcosa di interessante fra gruppi di fascia di età un po' più alta, probabilmente, ma per non fare degli sgarbi, perché questa è una città pericolosa, non dico niente, non faccio nomi, non faccio nomi.